Ascone era interessato ad acquisire i terreni circostanti, la sua proprietà all'imbadi, per utilizzarli per il pascolo del gregge o per ricevere contributi per attività agricole. Era legato alla fazione di Peppe Mancuso, noto come Mbroggia, e ai suoi fratelli Francesco Mancuso, soprannominato Tabacco, Pantaleone Mancuso, detto l'ingegnere, e Diego Mancuso. È stato proprio Diego a farmi sapere della caratura criminale di Ascone. Queste dichiarazioni provengono dal pentito Andrea Mantella, che ha testimoniato in videoconferenza da una località protetta durante il processo per la morte di Maria Chindamo, l'imprenditrice scomparsa il 6 maggio 2016 dai suoi terreni all'imbadi Vibo Valencia. La sua morte è considerata un caso di lupara bianca, un omicidio mafioso in cui il corpo viene fatto sparire in modo definitivo. Le indagini hanno accertato che Maria, originaria di Laureana di Borrello, Reggio Calabria, era nel mirino sia dell'Andrangheta che del suocero Vincenzo Punturiero, deceduto nel 2017. L'Andrangheta era interessata a entrare in possesso dei suoi terreni, mentre Punturiero nutriva rancore nei confronti di Maria dopo la morte del figlio Ferdinando, ex marito della donna, che si suicidò dopo la loro separazione. La congiunzione di questi due interessi avrebbe portato all'omicidio di Maria. Attualmente a processo per la sua morte c'è Salvatore Ascone, un noto trafficante di droga accusato di aver collaborato all'esecuzione dell'omicidio su incarico del suocero della vittima. Il collaboratore di giustizia Andrea Mantella ha riferito di aver ricevuto in carcere delle confidenze da Diego Mancuso. Secondo Mantella, la questione della cessione dei terreni risalirebbe all'epoca in cui il marito di Maria era ancora vivo. Ha detto il pentito, Diego Mancuso mi raccontò che il marito della Kindamo aveva quasi accettato la cessione dei terreni alla fazione di Peppe Mancuso grazie all'intervento di Francesco Pesce di Rosarno, il quale era riuscito a convincere il marito, ma non la donna. Anche dopo la morte del marito, Maria Kindamo continuò a gestire le sue attività in modo autonomo e indipendente. L'interesse delle cosche mafiose per le sue proprietà cresceva inesorabilmente. Diego Mancuso avrebbe riferito che, nella questione dei terreni, si sarebbero coinvolti anche i suoi zii, Luigi e Pantaleone Mancuso. Come ha precisato il pentito Andrea Mantella, Diego Mancuso era infuriato con gli zii perché riteneva che Salvatore Ascone dovesse rimanere con la sua fazione e non unirsi a quella degli zii. I terreni in questione, coltivati ad arance e kiwi, erano proprietà che la Kindamo non voleva cedere. In sostanza, mentre la criminalità organizzata cercava di impossessarsi delle proprietà, si verificavano tensioni interne tra le diverse fazioni mafiose. Maria non era disposta a scendere a compromessi. Secondo i racconti di altri pentiti, il corpo di Maria sarebbe stato dato in pasto ai maiali e l'omicidio sarebbe stato pianificato ed eseguito con precisione da una banda di sicari. Al momento, l'unico accusato è Salvatore Ascone, ma non è chiaro quale ruolo specifico avrebbe avuto nel delitto. Sebbene esistano indizi che suggeriscono la presenza di complici, non sono stati trovati elementi concreti per portare altre persone a processo. Il giorno della scomparsa di Maria, almeno tre veicoli sospetti sono stati avvistati. Una testimone ha dichiarato «Alle 7 e 10 circa, mentre ero in macchina con mia madre sulla strada che collega l'imbadi a Montalto, ho notato un fuoristrada, di cui non ricordo marca, modello o targa, che ha effettuato una rapida inversione di marcia vicino a una macchina bianca. Il fuoristrada ha attraversato l'incrocio e si è diretto verso una stradina che costeggia i campi da golf, dove si è fermato. Oltre al fuoristrada, sono state segnalate una golf grigia, ripresa da telecamere a Laureana di Borrello mentre seguiva Maria, e un'utilitaria nera, che è stata successivamente demolita in circostanze misteriose.